Care amiche e cari amici della notte, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la lettura e il commento dell'opera niciana, così parlo Zara Tustra. Siamo arrivati alla parte intitolata dei predicatori di morte. Vi sono predicatori di morte e la terra è piena di uomini cui bisogna predicare il distacco dalla vita. La terra è piena di uomini superflui, la vita è corrotta dai tanti di troppo. Se si potesse distogliere da questa vita con la seduzione della vita eterna. Gialli, così si chiamano i predicatori di morte, oppure neri, ma io ve li voglio presentare anche in altri colori. Ecco gli esseri tremendi che portano in sé la bestia rapace e non hanno scelta se non fra i piaceri e l'autodistruzione. E anche i loro piaceri sono autodistruzione. Non sono neppure diventati uomini questi esseri tremendi. Possano essi predicare il distacco dalla vita e quindi andarseli in malora. Ecco i tisici dell'anima. Appena nati cominciano già a morire, si distruggono per dottrine della stanchezza e della rinuncia. Essi vorrebbero di buon grado essere morti e noi dovremmo approvare il loro volere. Guardiamoci dal risvegliare questi morti e dal danneggiare queste bare viventi. valore incontro un malato, un vegliardo o un cadavere e subito dicono la vita è confutata. Ma solo loro sono confutati e il loro occhio che vede un unico volto dell'esistenza, avvoltoi in una densa malinconia e avidi di piccoli eventi, fortuiti, apportatori di morte. Così essi aspettano e stringono i denti. Oppure protendono le mani verso chicche e zuccherine e nello stesso tempo ridono del loro comportamento infantile. Restano attaccati alla loro pagliuzza di vita e ridono di questo rimanere attaccati a una pagliuzza. La loro saggezza dice folle chi rimane in vita, ma anche noi siamo così folli e questo è appunto la cosa più folle della vita. La vita è solo sofferenza, così dicono altri e non mentono. Preoccupatevi allora di porre fine a voi stessi, preoccupatevi che abbia fine quella vita che è solo sofferenza. E così dica la dottrina delle loro virtù. Tu devi uccidere te stesso, devi spontaneamente toglierti di mezzo. La volutà è peccato, così dicono alcuni che predicano la morte. Lasciateci in disparte senza procreare figli. Partorire è faticoso, dicono altri, perché partorire ancora. Si partoriscono solo infelici e anch'essi sono predicatori di morte. C'è bisogno di compassione, così dicono altri ancora. Prendete ciò che ho, prendete ciò che sono, tanto meno la vita mi legherà. Se fossero del tutto compassionevoli, guasterebbero al loro prossimo il piacere per la vita. Essere malvagi, questa sarebbe la loro legittima bontà. Ma essi vogliono liberarsi dalla vita. Che importa loro di costringere gli altri con le loro catene e i loro doni. E anche voi, per i quali la vita è un lavoro tumultuoso e disordine. Non siete molto stanchi della vita? Non siete molto maturi per la predica di morte? Voi tutti, a cui piace il lavoro tumultuoso e ciò che è rapido, nuovo e inusitato, vi sopportate malamente. La vostra assiduità è fuga e volontà di dimenticare voi stessi. Se credete di più alla vita, vi abbandonereste meno all'istante, ma non avete in voi stessi abbastanza contenuto per attendere e nemmeno per la pigrizia. Dappertutto risuona la voce di coloro che predicano la morte o la vita eterna. Per me è la stessa cosa, purché ci vadano in fretta. Così parlò Zaratustra. Partiamo dalla fine. La morte o la vita eterna, per me sono la stessa cosa. Dice in questo passaggio, attacca frontalmente i predicatori, i sacerdoti di qualunque religione, di qualunque fede, di qualunque orizzonte ultramondano e metafisico. I predicatori dell'umiliazione del corpo, i predicatori della morte, i predicatori che portano alla rinuncia, che invocano la pietà, i predicatori che portano di fatto gli uomini a non godere appieno della vita, della vita con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi dolori, la vita con la sua bellezza tragica. I predicatori di morte sono i sacerdoti, il richiamo qui. Niciano è un'altra poi opera, è di fatto un contenuto che troviamo sia qui che poi nella genealogia della morale. Nella genealogia della morale Nicci ci racconta come è nata la morale dei servi, la morale dei perdenti, dei rinunciatori della vita. È nata perché alcuni uomini non coraggiosi, non forti, non valorosi, privi di volontà e di forza hanno invocato una nuova dimensione, hanno costruito un nuovo orizzonte, l'orizzonte della rinuncia della vita. Questi uomini che non riuscivano a gareggiare con i cavalieri, che non riuscivano a gareggiare con i signori della vita, hanno cominciato a predicare in mezzo ai più poveri, ai più deboli, la rinuncia della vita, a trasformare dunque la forza in una colpa, il coraggio in una colpa, a trasformare l'attaccamento alla terra in una colpa. Si sono trasformati questi primi uomini così più rinunciatari in sacerdoti, questi uomini così deboli in sacerdoti hanno fatto dunque della rinuncia l'orizzonte della vita, dell'umiliazione della terra, del sangue, della vita, della forza, l'obiettivo del vivere, la vita di rinuncia. I sacerdoti costruiscono sulla paura del vivere il loro potere, i sacerdoti costruiscono sulla paura dell'attraversare la nostra vita, del vivere nel mondo il loro potere, il dominio culturale, il dominio religioso. Passa attraverso la paura che i sacerdoti infondono, passa attraverso la predicazione nei confronti di una vita che va abbandonata, che va rinunciata. Bisogna rinunciare a vivere. Sono predicatori di morte, sono tisici dell'anima che continuano semplicemente a produrre dottrine di stanchezza e di rinuncia. Sono uomini che vanno appunto abbandonati, andrebbero dimenticati. Speriamo che muoiano, dice a un certo punto il nostro Nietzsche, predicano che la volontà è peccato, invece la volontà è forza. Ricordiamoci poi l'opera ultima, poi sistemata anche poi da sua sorella, appunto la volontà di potenza, la volontà è forza, la volontà è una prospettiva dell'oltreuomo, da oltreuomo. L'Ubermensch è colui che si fa volontà di potenza del mondo e dunque non rinuncia. Si fa volontà di vita, di volontà di vita, di volontà di vita nella tradicità del mondo, ma la rinuncia alla vita è appunto l'inizio di una decadenza o è la continuazione di una decadenza. Sono malvagi questi predicatori della morte, sono falsi questi predicatori umani della morte, sono stanchi di vivere e fanno della stanchezza della vita la loro missione, la loro predicazione. Sono i sacerdoti della morte coloro che di fatto hanno trasformato la debolezza in una virtù, la rinuncia in una virtù. Sono coloro che perdono l'orizzonte alto e si soffermano sulla pagliuzza. Sono coloro che di fatto ci portano all'infelicità. L'infelicità è l'orizzonte che è predicato. Nell'infelicità della vita, nell'infelicità del nostro esistere, i predicatori prendono forza. La vita è dolore, la vita è sacrificio, ma poi ci sarà una vita nell'aldilà, c'è una vita eterna. Invece la vita, anche se dolore, anche se sacrificio, è qui e ora e va vissuta, non va appunto umiliata, non va appunto relegata a mero passaggio di sofferenza, a mera attesa nei confronti dell'aldilà. Questa voce risuona ovunque, i predicatori di morte sono ovunque, fanno il gioco del potere della decadenza, fanno il gioco dei razionalisti quasi senza ragione, di quei razionalisti che tentano sempre di dare una forma, un senso al mondo senza andare in profondità, una razionalità tecnica e burocratica. Fanno il gioco di coloro che di fatto producono decadenza culturale, decadenza etica, fanno il gioco di coloro che hanno bisogno ovviamente di popoli fatti di greggi, di pecore, di un popolo greggio, un popolo di pecore che rinuncia alla vita, che obbedisce sempre, che è una prospettiva di sacrificio, di rinuncia, toccheranno poi ad altri i piaceri della vita, toccheranno ad altri le bellezze, ma non c'è bellezza senza bruttezza, non c'è gioia senza dolore, la vita va accettata nella totalità. I predicatori invece di morte mettono l'accento sul dolore, sull'infelicità, sul tu partorirai nel dolore, sull'infelicità, sul peccato, sulla debolezza, sulla sofferenza allora cominciano ad evocare questo al di là, questa vita eterna che sarà luogo di beatitudine, sarà luogo di salvezza, sarà luogo di bontà, ma questa loro predicazione è falsa, questa loro predicazione ha un prezzo troppo alto da pagare, ed è la rinuncia alla vita, la rinuncia al fare del mondo la nostra casa, la casa in cui abitiamo il mondo, la vita che abitiamo è questa, questa vita va abbellita, questa vita va resa trionfante, questa casa nel nostro mondo va resa più che mai degna di essere vissuta, deve diventare un castello, deve diventare una reggia, non è una valle di lacrime alla Sant'Agostino, non è appunto un passaggio di carne peccaminosa, di polvere, che tornerà appunto tra la polvere in attesa di una beatitudine eterna, morte o vita eterna sono la stessa cosa, quello che dobbiamo fare è vivere la vita, una vita nel tempo, una vita temporanea, una vita temporanea che va accettata, vissuta che va pienamente, pienamente vissuta entrando nella profondità della vita, la vita è fatta poi di libertà, la vita è fatta di volontà, la vita è fatta di dolore, dicevo prima, e non si può negare tutto ciò, se si pensa soltanto a queste prospettive c'è la paura, ma la paura paralizza la vita e dunque i predicatori di morte costruiscono la paura, la paura che porta alla rinuncia della vita, per essere oltre uomini, per essere autenticamente liberi bisogna liberarsi dalla paura di vivere, chi ha paura non vive ma sopravvive, chi ha paura attende la morte come liberazione, invece la morte deve essere un appuntamento che noi dobbiamo sempre aver presente per dare un profondo significato alla vita che viviamo qui ora in terra. Buonanotte a tutti, ci sentiamo e ci vediamo con Nice la prossima settimana, se riesco una puntata di Nice a settimana, nel frattempo sottoscrivetemi cosa vorreste che leggessi e commentassi integralmente dopo il titanico sforzo di così parlo Zaratustra, leggendo integralmente e probabilmente già un'impresa degna di piccoli oltre uomini quali noi siamo quando proviamo ad avvicinarsi al vecchio filosofo del martello. Buonanotte a tutti.